buongiorno e buon giovedì 16 febbraio 2023 dio di benedica dio di benedica immensamente oggi abbiamo l'opportunità di poter ascoltare nuovamente la parola del signore e prima di farlo prima di farlo voglio dirti una cosa domani sarà il compleanno di mia moglie sono felice spero di poter organizzare qualcosa di buono almeno per festeggiarlo e quindi siamo in fase di preparazione ecco volevo comunicartelo domani magari farò un video dove lei lo ascolta quindi lo condividi anche con gli altri magari avrò l'opportunità ecco di poterla salutare anche anche attraverso questo strumento nonostante comunque ci vediamo ecco siamo abitati insieme ecco non è che siamo separati anche se ti sembra vabbè sia sia ben chiaro era una battuta ovviamente comunque sì ora vogliamo passare alla parola del signore che questa mattina dice proprio così ho combattuto il buon combattimento ho finito la corsa ho conservato la fede questo meraviglioso testo sono le parole dell'apostolo paolo ispirato dallo spirito santo che puoi trovare nella seconda lettera di timotio capitolo 4 versetto 7 il titolo di questa meditazione biblica è questo da persecutore ha perseguitato paolo da tarso è definito l'apostolo dei gentili per la sua attività di missionario dell'evangelo tra i pagani greci e romane prima della sua conversione saulo questo il suo nome originario fu un convinto fariseo particolarmente zelante e ostile alla religione cristiana che cominciava a diffondersi e ad affermarsi fu testimone della lapidazione di stefano di cui ne approvò l'uccisione come descritto negli atti degli apostoli al capitolo 7 e al capitolo 8 ricevette il compito di regarsi a damasco per imprigionare i cristiani di quella città la vita di paolo dopo la sua conversione sulla vita di damas sulla via di damasco fu presa per la parola di dio e la parola stessa ci ha tramandato la sua biografia nel libro degli atti e nelle sue lettere stesse la bibbia non riporta il racconto della fine della vita degli apostoli ad eccezione di quella di giacomo e per ragioni particolari del martirio di stefano normalmente sotto l'impero romano per un condannato ora che fosse cittadino romano vi era uno scarto di dieci giorni tra la condanna a morte e l'esecuzione si sa pure che il tribunale imperiale non era soggetto ad alcuna regola procedurale pertanto l'esecuzione poteva essere eseguita anche al momento sul posto era l'imperatore a determinare il luogo e l'ora del supplizio si ignora pertanto come l'apostolo paolo sia stato portato come attesta la tradizione sin da tertulliano fino ad acque salviae a tre miglia circa da roma presso la via di ostia per essere giustiziata a quell'epoca lo strumento abituale dell'esecuzione non era più l'ascia ma la spada l'operazione era diretta da un ufficiale e l'esecuzione era affidata a uno speculator un subalterno che già in epoca repubblicana si occupava di supplizzi paolo arrivato sul luogo del martirio rimase in piedi rivolto ad oriente prego a lungo intrattenendosi in ebraico col dio dei suoi padri poi finito di parlare porse il collo alla guzzino la grande voce che aveva annunciato al mondo la salvezza di dio era soppressa ma leggendo le sue lettere ogni credente lo sente ancora parlare e gode dell'efficacia del suo insegnamento ora io non so se tu hai mai letto le lettere dell'apostolo paolo le lettere ai corinzi le lettere la lettera ai romani la lettera ai filippesi agli effesini ai galati la lettera ai tessalonicesi ecco sono lettere meravigliose che puoi trovare nel nuovo testamento ora siccome nella tradizione normale diciamo non vengono lette più di tanto io ti consiglio di leggerla qualcuna parti proprio dalla lettera ai corinzi sono due lettere straordinarie meravigliose che danno degli insegnamenti straordinari sia sulla chiesa sia sul culto sia sui doni spirituali parla di tanti aspetti ti consiglio se non l'hai mai letta di iniziarla a leggere io penso che ci vorranno due tre giorni al massimo ma sono certo che riceverai un gran bagaglio di informazioni e una grande benedizione che proviene dalla parola stessa quindi dio ti benedica buona giornata e ci vediamo domani al solito appuntamento pace di gesù